ciao allora stranamente acquisti da wish e oggi vi mostro alcuni degli anelli che ho preso una passione per gli anelli io sfegatata infatti vedete anche questo però questo è della nomination quindi non c'entra niente però comunque sia ho comprato un sacco di anelli alcuni più carini alcuni meno ma adesso ve li mostro wish tutti a un euro si mettono nella lista dei desideri e vanno in offerta in breve tempo quindi pago solo la spedizione primo che vi mostro è questo vediamo se la mette a fuoco sì ok visto che non ne vuole sapere di mettere a fuoco provo a farveli vedere così allora questo è il primo oh così mette a fuoco sì eccolo qua con le farfalle non andrebbe in questo dito ma è solamente per farvelo vedere poi abbiamo questo con il simbolo dell'infinito doppio infinito quindi quello normale quello con i glitterini lo faccio sempre vedere così ed è molto carino per me con anche un piccolo cuoricino poi dopo eccone qua un altro questo ha dei fiori fiori una farfalla è tutto luminoso eccolo dietro è fatto così questo riprende un po' tipo l'oro rosa ah qui ho litigato con toni se non si era capito ok poi vi faccio vedere il prossimo guardate questo è stupendo ha le farfalle sia in oro rosa che eccole qui con i due brillantini blu e bianchi poi la cosa bella è che comunque sono regolabili quindi si possono aprire un pochino di più delicatamente perché non è che sono allora questo è stupendo e mi piace un sacco che poi andrebbe qui ecco poi fiore ecco mi è caduto il fiore fiore eccolo qui anche questo è stupendo vediamo ok con la pietrina viola questo è anche bello robusto ha una buona qualità quindi tra quelli che ho fatto vedere per adesso è quello che assieme a quello dell'infinito mi piace di più perché è bello robusto ecco poi l'ultimo ecco qua anche questo molto carino con la pallina che pende e anche questo è carinissimo questo è più delicato però però comunque dovrebbe resistere allora dunque questi erano tutti gli anelli che per adesso ho preso da wish ma credo che ne prenderò altri perché io sono un amante degli anelli comunque fatemi sapere se qualcuno di questi vi è piaciuto se ce l'avete già se vi interessa se è carino quali sono più carini e quali meno alcuni come ho detto la qualità è buona in altri però vi ricordo che costano un euro cioè io le ho pagate solo a spedizione da un euro quindi va benissimo e se vi è piaciuto questo video vi ho tenuto un po di compagnia o vi ho fatto scoprire così le nuove perché no mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che ne carico uno alla prossima ciao ciao